Musica Ottant'anni dal primo calendario di Frate Indovino, edizione speciale, quella del 2025, dedicata al Giubileo. Logo sulla copertina per celebrare un anno di grandi eventi. La saggezza in pillole, una tradizione da appendere in ogni casa, è andata in stampa oggi, l'ottantesima edizione del calendario di Frate Indovino 2025, dedicata al Giubileo. Alessandro Catanzaro. Quella 2025, che sta andando proprio ora alle stampe, è destinata ad essere un'edizione davvero speciale del calendario di Frate Indovino. Non solo perché è dedicata al Giubileo, ma anche perché ricorrono 80 anni dal primo lunario di Frate Indovino, uscito nel 1946. In quel momento, nell'immediato dopoguerra, ovunque vi erano lutti e rovine. Ma, come la gente di allora si rimboccò le maniche per mettere in moto la ricostruzione del bel paese, anche i frati Cappuccini Umbri, al seguito di padre Mariangelo da Cerqueto, diedero il via un'incredibile avventura editoriale che nessuno avrebbe potuto prevedere. Oggi l'Almanacco ha una diffusione di oltre 2 milioni di copie. Il nostro nonno di casa ormai compie 80 anni e quindi abbiamo voluto dare risalto anche con un piccolo logo sulla copertina del calendario a questo evento, a questo Giubileo nel Giubileo. Il calendario è concentrato sull'anno santo e quindi per i 12 mesi, ogni mese, da gennaio a dicembre, viene sviluppato un particolare tema con delle illustrazioni attinenti al tema e poi le solite rubriche, quelle care ai nostri fidelizzati, ai nostri lettori, che sono le rubriche sull'orticello, sulla cucina, sul tempo. Il calendario, la struttura del calendario continua ad essere quella che è sempre stato. Importante ricordare che i proventi delle vendite sono destinati ad opere di solidarietà in Italia e in giro per il mondo, ad esempio in Amazzonia, Madagascar e Ucraina, grazie ai progetti sostenuti dalla Fondazione Assisi Missio.